La riproposizione dell'avveneristico progetto di Zahadid del Waterfront Museo del Mare Reggio Calabria ha trovato sulle pagine della Gazzetta del Sud di qualche giorno fa una solenne bocciatura da parte del prorettore dell'Università Mediterranea Gianfranco Neri che ha definito l'opera irrealistica, culturalmente priva di capacità di aggregare, Reggio ha bisogno di altro. Quello che ci ha colpito nell'articolo non è tanto il dissenso sempre legittimo quanto le argomentazioni addotte, soprattutto quando si cita il precedente illustre del Museo di Guggenheim di Bilbao progettato da Frankie Gavri per sostenere l'inattualità del modello. Stiamo parlando di un'opera pensata negli anni Ottanta, adesso saremmo indietro di 40 anni. La prima cosa che ci verrebbe da dire, scrive un genitore di uno dei ricercatori Regini a San Sebastien è meglio tardi che mai, professore. Il successo strepitoso del Guggenheim non ha cambiato l'economia e il destino di un territorio non 40 anni fa, ma già immediatamente dopo la sua inaugurazione avvenuta 22 anni fa nel 1997. Potrebbe invece essere esattamente il modello di riferimento con il dichiarato obiettivo di cercare di seguirne le orme per quanto possibile, costruendo intorno a questo fiore all'occhiello un sistema di città più moderno e proteso al futuro. E ci sembra proprio questa l'intenzione manifestata dal sindaco Giuseppe Falcomatà che ha avuto il coraggio di riprendere un progetto della vecchia amministrazione rilanciandolo in chiave strategica per il bene della città e delle generazioni future perché non si vive solo di emergenze pur prioritarie. Un'opera come quella di Hadid, continua il genitore del ricercatore San Sebastian, sarebbe un sogno per una città come Reggio che, pur non potendosi paragonare con Bilbao, che conta 360.000 abitanti, potrebbe almeno paragonarsi con la più piccola San Sebastian a 100 km da Bilbao, che, come Reggio, a 180.000 abitanti, è adagiata sul mare con una posizione simile a quella della nostra, un lungomare spettacolare, le montagne alle spalle, in posizione un po' periferica rispetto al resto della Spagna, così come Reggio è periferica al resto dell'Italia.